Della discarica di Giovinazzo è stato approvato l'ampliamento lo scorso 24 settembre attraverso la realizzazione del sesto lotto e con la salute io pago, anzi San Pietro pago e come me tutta la città di Giovinazzo. Proprio contro l'ampliamento della discarica oggi domenica 11 ottobre in piazza Vittorio Emanuele è stato organizzato un sit-in di protesta. Ai nostri microfoni abbiamo il consigliere comunale del PDL Vitangelo Bavaro a cui però chiediamo un commento sulla partecipazione da parte della città di Giovinazzo a questa protesta. Io sono sconcertato per la gravità del problema e per la facilità con cui questa amministrazione ha approvato l'ampliamento della discarica ma ancora di più sono sconcertato per l'indifferenza dei cittadini di Giovinazzo che di fronte a questo problema non si sono resi conto della gravità e quindi hanno fatto venire meno la loro partecipazione. Questo è un fatto molto grave che mi sconcerta. Evito pure di entrare nel merito dei problemi perché prima di questo c'è l'indifferenza o a questo punto mi viene il dubbio che siano favorevoli alla discarica nel Comune di Giovinazzo. Io però volevo chiedere, Giovinazzo insieme ad altri 8 comuni fa parte del consorzio Ato del bacino Bari 2. Perché poi gli altri comuni dicono no, si appongono allo smaltimento dei rifiuti e Giovinazzo invece, solo Giovinazzo ha detto sì all'ampliamento della propria discarica. E questo bisognerebbe chiederlo al sindaco. Noi come posizione abbiamo chiesto diverse cose in consiglio comunale e anche quel consiglio comunale ha avuto la scarsa partecipazione dei cittadini di Giovinazzo. Noi per esempio abbiamo chiesto perché ad agosto l'amministrazione provinciale chiedeva al sindaco la situazione dell'ampliamento della discarica. In pratica diceva se voi a Giovinazzo non siete pronti noi abbiamo a disposizione Conversano e Trani per poter succedere allo smaltimento e poter superare l'emergenza. Fateci sapere come stanno le cose. Ora io avrei nicchiato, avrei perso tempo e avrei quindi ribaltato i problemi su altri tavoli. Invece il comune di Giovinazzo in sette giorni ha dato incarico ad un legale legale tra parentesi già della Danico che quindi aveva tutto l'interesse ad ampliare la discarica. Il quale avvocato, il quale legale ha chiaramente espresso parere favorevole e in sette giorni è stato portato alla provincia e la provincia ha assunto questo provvedimento positivo. Quindi il comune ha dato ampia disponibilità con una solerzia inimmaginabile. I comuni del consorzio Ato che ricordiamo sta per ambito territoriale ottimale, potevano loro poi prendersi dei rifiuti? Prendere i rifiuti? No, ma per il momento... Le spiego, siccome tra i punti di obiezione che voi sollevavate c'era questo, voi dicevate solo il comune di Giovinazzo dice sì, gli altri invece si appogliono. Significa che quindi gli altri comuni volendo potevano far fronte... Quello è un problema più generale di programmazione. Adesso c'era un'emergenza, un'emergenza che il comune di Giovinazzo ha voluto risolvere a proprie spese in favore di tutti gli altri comuni. Tutti gli altri comuni sono inadempienti nella programmazione della gestione dei rifiuti con gli inceneritori, con gli impianti di trattamento, eccetera, eccetera. Solo Giovinazzo invece è solerte di fronte a questi problemi. Volevo aggiungere un'altra cosa soltanto, cioè in consiglio comunale un consigliere della maggioranza ha proposto un emendamento all'approvazione della delibera sull'ampliamento della discarica, emendamento che avrebbe impedito altri ulteriori ampliamenti futuri o aperture di altre discariche nel futuro. Dopo 5 minuti di sospensione si sono riuniti i consiglieri di maggioranza e hanno rigettato l'emendamento del consigliere stesso di maggioranza. Possiamo dire di chi si tratta? Sì, del consigliere Magarelli. La nostra amministrazione sarà disponibile non solo a questo ampliamento, ma anche a futuri ampliamenti o aperture di discariche. Adesso ai nostri microfoni abbiamo il presidente e l'addetto stampa di una nuova associazione che si è costituita a giovinazzo. Allora sentiamo il nome e cognome e di che associazione si tratta. Io sono Camporeale Filippo e la nostra è un'associazione plettamente di giovani, siamo 50 giovani. Si chiama? La nuova giovinazzo. Noi oggi siamo qui presenti in piazza per manifestare contro questa emergenza rifiuti, perché si presenterà questa emergenza rifiuti, è scontato. Noi siamo qui, siamo in 50, tutti presenti e vogliamo fortemente manifestare la nostra volontà, perché vogliamo far capire al popolo di giovinazzo che i cittadini non sono solo quelli adulti e quelli che stanno sul comune e che dirigono il nostro paese, ma siamo anche noi giovani, perché siamo la cittadinanza di oggi e non quella del futuro. Pertanto siamo qui a testimoniare che noi ci siamo e protestiamo questa manifestazione che poi non è una manifestazione politica, è una manifestazione che va al di là delle idee delle persone stesse. Siamo qui riuniti oggi persone che hanno idee di politica diversa. Noi siamo qui, siamo un'associazione a politica di giovani, ci siamo immersi nel contesto sociale per dire che noi ci siamo. E che avete a cuore le sorti della nostra giovinazzo. Le sorti della nostra giovinazzo. Noi non possiamo fare altro che essere presenti, essere solidali, insomma, tra virgolette, lottari al fianco di tutti i manifestanti di oggi, insomma, della manifestazione. L'addetto stampa invece, nome e cognome? Francesco Serone, addetto stampa dell'associazione Nuova Giovinazzo. Allora, l'addetto stampa vorrei chiedere, ecco, questo ampliamento ha un qualcosa di transitorio in realtà. Però una manifestazione come quella di oggi, quando ormai è stato approvato già l'ampliamento stesso, ha una possibilità concreta di fermare il tutto? Ma se riusciamo nel nostro obiettivo, che è quello sicuramente di smuovere le coscienze e comunque di scatenare un'ampia partecipazione popolare, potrebbe avere comunque dei risultati. Noi oggi siamo qui per dimostrare la nostra posizione, il nostro dissenso nei confronti di questo ampliamento della discarica. Perché noi giovani saremo comunque quelli che soffriranno maggiormente di questo ampliamento in futuro, quando noi comunque siamo il futuro di Giovinazzo e quando dobbiamo costituire una nuova classe dirigente. Proprio per questo motivo noi oggi siamo qui per esprimere il nostro dissenso, per protestare contro questo ampliamento voluto dalla giunta comunale. La nostra, lo tengo a ribadire, è una manifestazione apolitica, in quanto i partecipanti posseggono idee politiche diametralmente opposte e in quanto alla questione di transitorietà della discarica, noi comunque abbiamo scarsa fiducia riguardo appunto a questa transitorietà in quanto più di una volta in Italia sono successi problemi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti che vengono trascinati da anni, come peraltro la questione della discarica di Giovinazzo. Anche perché poi tra l'altro in questo modo si crea, si sarebbe creato, dicono, il problema dell'emergenza rifiuti nel bacino Bari 2. Si evita così questo problema di emergenza rifiuti nel bacino, ma poi come la mettiamo con la salute dei giovinazzesi? Io penso che, perché oggi siamo in pochi qui a Giovinazzo, non abbiamo raggiunto un numero elevato, sia proprio questo, le persone non ci fanno caso alla salute. Io penso che se uno aveva veramente a cuore la salute propria dei figli e delle generazioni future, io penso che oggi sarebbe stata qui in massa a protestare contro questa discarica che non è solamente un discorso di salute. È un discorso di inquinamento che va oltre la salute, la salute naturalmente è al primo posto, però c'è l'inquinamento per le campagne, l'inquinamento dei suoli, l'inquinamento dell'aria, tanti tipi di inquinamenti che naturalmente nuociono alla salute dei giovinazzesi. Il parere, per concludere, anche dalla detto stampa, sulla scarsa, purtroppo, partecipazione dei cittadini di Giovinazzo? Secondo me, in assoluto, c'è un problema di malinformazione. Comunque la maggior parte dei giovinazzesi non sa o comunque sa in maniera molto approssimativa il problema della discarica e quindi non è con noi in piazza a manifestare. Noi comunque andiamo avanti, saremo pochi ma buoni, ma siamo qui sempre per esprimere il nostro dissenso. Avete altre manifestazioni in programma? Sicuramente se riusciremo a raggiungere dei risultati continueremo sempre a protestare o comunque esprimere il nostro dissenso. Ciò che ci preme sottolineare, l'ho già detto prima, è la nostra totale negazione nei confronti appunto di questo ampliamento della discarica. A questa paventata emergenza noi questa discarica non la vogliamo e spiegheremo i motivi per cui non la vogliamo. C'è stata una velocità da parte della nostra giunta nel far costruire il sesto lotto, di parlare subito di emergenza e questa insomma era una cosa che ce la potevamo risparmiare. Il Rockefeller Center evidentemente. Qualcun altro ha ironizzato sulla foto che ha girato sul volantino che dicono non era la discarica di Giovinazzo. E certo, non era la discarica di Giovinazzo quella. È una delle tante discariche che ci sono. Però purtroppo siamo andati a fotografare la discarica di Giovinazzo e con queste macchine digitali devo dire che non siamo riusciti a prendere l'alta murgia che hanno fatto a San Pietro Pago perché adesso le montagne assomigliano a una murgia. Quindi anche a Giovinazzo abbiamo una murgia, una murgia di immondizia. Al sitino organizzato qui in piazza l'11 ottobre nessun rappresentante della maggioranza è presente. A onor di cronaca c'è pervenuto un comunicato da parte del sindaco di cui mi appresto a dare immediata lettura. Si tratta di un ampliamento dell'impianto esistente che accoglie solo rifiuti biostabilizzati. Non è una nuova discarica come dicono gli asini che non capiscono la differenza. L'ampliamento si è reso necessario perché ci sono stati ritardi nella costruzione degli impianti previsti dal piano regionale. Tali ritardi sono dipesi dalla difficoltà eccezionale della gara d'appalto, da un ricorso al TAR da parte di un concorrente alla gara medesima e infine dal prolungarsi dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte della provincia di Bari, fermatasi per mesi dopo l'insediamento del presidente Schittulli. Inoltre dopo dicembre non si potranno più portare i rifiuti dove li abbiamo smaltiti finora, cioè a Conversano. Senza ampliamento da gennaio i rifiuti sarebbero rimasti per strada. Infatti la richiesta di ampliamento è pervenuta dall'autorità d'ambito, dalla provincia di Bari e dalla regione Puglia. Poi si è parlato di episodi di insofferenza di parti della cittadinanza, ma in realtà io non ho percepito una vera mobilitazione. Si sono solo svegliati gli ecologisti a orologeria in previsione della campagna elettorale per le regionali. Segnalo alcuni dettagli tipici dei personaggi di cui parliamo. Uno, parlano genericamente di rischi per la salute senza esibire uno straccio di riscontro scientifico. Due, hanno diffuso un volantino in cui viene riportata una fotografia che non è certo quella dell'impianto di Giovinazzo. Tre, il volantino non è firmato. Quattro, l'autorizzazione per il sit-in del giorno 11 ottobre è stata richiesta in comune con firme non leggibili. Se non vogliamo pensare che il tema sia davvero troppo difficile per le risorse che il centrodestra mette in campo, dobbiamo concludere che ha interessi a creare l'emergenza rifiuti per farla valere durante la campagna elettorale per la regione. Questo è quanto ha dichiarato il sindaco, ma noi della Web TV ci promettiamo chiaramente di interloquire anche con i rappresentanti della maggioranza per eventuali repliche.